E sto capendo se c'è un attimo un linkino per arrivare. Dunque, dicevo, mi pare c'ha 999 milioni, 999 milioni, 999 gile si chiamano la moneta di quel gioco, e... Praticamente ha accappato i soldi che puoi avere nel gioco, e praticamente quando mettono un prodotto lui va là e li compra tutti e li mette lui, praticamente decide lui i prezzi dei prodotti, non so, è diventato... Vabbè, è diventato un prezzi. Sì, no, è Bezos praticamente, è diventato. Un trafficante, insomma, via. Sì, vediamo.